Nello speech di oggi andrò ad affrontare un tema molto importante che è quello di come poter andare ad anticipare quelle che sono le mosse di un attaccante. Oggi noi spesso siamo focalizzati nell'andare a difendere il perimetro interno di un'azienda, osservare tutto quello che accade all'interno di questo perimetro e quindi possiamo individuare un attacco solo nel momento in cui entra in questo perimetro. L'importante però sarebbe anche riuscire a anticipare questa detection e spostare quindi il punto di osservazione più in là. Ecco che quindi ci vengono in aiuto dei servizi come la Cyber Threat Intelligence che ci permettono di estendere quello che è il raggio di osservazione anche all'esterno del perimetro aziendale, andare a capire quando gli attaccanti stanno pianificando un potenziale attacco per l'azienda e osservando quella che è l'evoluzione di un attacco ancora nelle fasi iniziali ci possono permettere di intervenire in maniera anticipata e quindi potenzialmente riuscire a bloccare un evento malevolo prima che questo si verifichi all'interno del perimetro aziendale. Ecco che un servizio come questo ci dà quel vantaggio competitivo ci permette di spostare il nostro fronte di azione nel perimetro, nel campo dell'attaccante e anticipare le sue mosse. Voglio ringraziare l'associazione Cyber Actors per aver organizzato questo evento evento veramente di elevata caratura con ospiti molto importanti e anche con contenuti estremamente interessanti che ci hanno permesso di divulgare quello che è l'informazione, i contenuti e le novità della Cyber Security e portare questa conoscenza un po' a tutto il pubblico.